Il nuovissimo SPZ Merch è finalmente uscito Andate su FedericoSPZGames.it per essere i primi ad acquistare la nuovissima collezione Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adotme Oggi andiamo a vedere codici per quanto riguarda Adotme Andiamo a vedere come ottenere uno Shadow Dragon Skate Veramente è una cosa assurda Ma ne parliamo fra pochissimo Ma prima di iniziare questo video Se anche voi volete il vostro dream pet Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E commentate il vostro username Roblox Vi ricordo anche di seguirmi su Roblox Schiacciando i tre puntini in alta destra E unirvi al mio gruppo SPZ Squad Dove potete trovare nella sezione negozio ogni settimana tantissime nuove magliette Se invece volete la mia amicizia su Roblox O se volete semplicemente giocare con me Andate a dare un'occhiata agli abbonamenti vicino al bottoncino iscriviti Eccoci qui su Adotme E come potete vedere dalla schermata è uscito un nuovissimo aggiornamento Dove abbiamo una nuova casa E un nuovo pet veicolo Che è una cosa completamente nuova Qui su Adotme ma ci ha fatto una live Quindi se ve la siete persa mi raccomando andatela a recuperare Oggi non parleremo di questo Perché parleremo di un aggiornamento strano Di un aggiornamento totalmente segreto Per quanto riguarda codici di Adotme E voi direte ma che cavolo sta dicendo questo Ragazzi ci sono dei codici su Adotme E vabbè adesso andiamo a levare questo qua Andiamo a mettere Drew un attimo Ma ci sono dei codici E voi direte ma di nuovo un video sui codici No raga non il video che ho registrato a tempo fa sui codici Ma codici proprio su Adotme Codici dove possono darvi pet Dove vi possono dare giocattoli Dove vi possono dare oggetti su Adotme Proprio su Adotme ok La cosa che mi ha scioccato E che io ve l'avevo già mostrato in live Adesso vi faccio vedere dove si trova Praticamente adesso ci teletrasportiamo al centro E una volta arrivati Adesso faccio fly per comodità Dovete andare qui dove c'è l'hot spring Il vecchio hot spring Adesso si chiama la piscina Il pool party E bisogna andare qua al farm shop ok Quindi dove c'è il Dove si compra il cibo E accanto come potete vedere c'è questo Edificio secondo me è un po' Dimenticato Un po' messo lì a caso Dove si fa la licenza all'inizio Quindi è un posto un po' no Che non si utilizza molto spesso Adesso noi ci entriamo Così ve lo faccio vedere Io ve l'avevo già mostrato questo in live Mi sembra Perché Jesse aveva detto che aggiungevano questa roba qua Come potete vedere qua c'è un computer Dove potete mettere codici Ma a Jesse ha detto state tranquilli Non vi preoccupate perché non ci sono codici al momento Ok Ieri a casissimo Un ragazzo su twitter Si è messo a dire Raga questo è il codice E io ho detto Ma figurati Ma figuratevi se c'è un codice Per me è una gran cavolata E invece raga Non è una cavolata C'è un codice Infatti se ci avviciniamo qua E schiacciamo su E Raga ci fa entrare i codici Vi giuro E è una cosa assurda Cioè al momento Io vi confermo già che ci sono due codici Ma Ne sappiamo solo uno Non sappiamo quando esce il nuovo codice Voi state vedendo questo video Non mi ricordo quando Il 21 credo Sto facendo uscire questo video In anticipo Oggi dovevo uscire un video di Brockhaven sul canale Ma esce un video di Adotmi Perché raga Avete solamente 3-4 giorni Per collezionare Il vostro Shadow Dragon Skateboard Se no raga non potete più Dovete collezionarlo ora Perché poi non potete più ottenerlo E praticamente Sto ragazzo Adesso io vi faccio vedere Magari anche voi twitter Ecco qua Sto ragazzo Adotmi News Che poi sarebbe I Super Penguin Che è questo ragazzo qua Che l'ha scoperto Sto codice Ha fatto tutta sta grafica Che è praticamente Simile A quella Di Adotmi Ma non è Adotmi E ha postato questa roba Adesso penso che voi lo vedete bene a scarmo C'è scritto Sblocca il nuovo In game Quindi all'interno del gioco Con questo codice E il codice è questo qua Adesso ne lo andiamo a provare insieme Dice che vi da uno Shadow Dragon Skateboard Quindi assurdo Ci dice anche che questo codice Si può ottenere dal 19 luglio Fino al 25 luglio Quindi raga Avete veramente 3-4 giorni Poi questo Shadow Dragon Skateboard Non ci sarà più Vi ricordo che è totalmente gratuito Dovete solamente inserire il codice E vi posso anche dire Qual è l'altro oggetto che c'è Ma non sappiamo ancora il codice Il toy Delivery truck Ma quello che sappiamo È che questo codice funziona Raga Si scrive AM Che sta per Adotmi Comic 2023 Quindi AM Comic 2023 Qua vi dice che Se avete invece un codice Per quanto riguarda i pelucci di Adotmi Che purtroppo ancora non ci sono in Italia Dice che bisogna andare su Roblox Perché non c'entra niente con Adotmi Questi qua sono codici di Adotmi Quindi adesso andiamo a incollare il codice di prima AM Comic 2023 Ragazzi Ve lo lascio qui a schermo AM Comic 2023 Andatelo ad inserire E mi raccomando Avete pochissimo tempo Io faccio Redeem Perché ancora non l'ho preso L'ho preso con voi E raga vi da uno Shadow Dragon Skateball Assurdo E ce lo dice che Ciccio che già l'ha messo nel backpack Quindi molto molto carino Con questa animazione Un po' strana Che non abbiamo mai visto su Adotmi Perché è tipo un'animazione Un po' come dire Non mi ricordo come si chiama Ma 68 bit Comunque insomma Una cosa tipo Old school gaming Quindi ci sta un sacco Adesso usciamo di qua E beh che dire Andiamo a vedere subito Com'è questo skate Allora Lo vediamo subito qua Nel backpack E un comune E sfortunatamente raga Non è scambiabile Non ho capito perché Però Non si può scambiare Quindi magari Leviamo Drew Così lo vedete bene E' veramente veramente bello Comunque raga Che ha sopra Uno Shadow Dragon Fatto però a cartoon Cioè Non è il classico Shadow Di Adotmi E' uno Shadow Dragon Fatto a cartoon E secondo me è molto molto bello Anche perché non abbiamo skate Di questo genere E' proprio uno skate Sembra quasi realistico Quindi molto 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 bello E che dire Raga è gratis Si ottiene tramite un codice Questo qua è il primo oggetto Che si può ottenere tramite i codici E non l'ha detto Adotmi Quindi ho sta cosa che non capisco E come fa sto ragazzo A sapere di questo codice Non ne ho la più pallida idea E' proprio una cosa strana Una cosa E non riesco a capire Cioè nel senso Chi cavolo Ha fatto uscire questo codice Non lo so Secondo me questo ragazzo Che ha fatto uscire il codice A me avrà dei problemi Perché tipo Voglio dire che è un hacker Però per avere il codice Di questa roba Che Adotmi ancora Non ha rilasciato niente Ecco Secondo me C'è qualcosa che puzza Però allo stesso tempo Mi chiedo Se Adotmi ha detto Che non c'era nessun codice Come mai adesso C'è un codice Per ottenere Uno Shadow Dragon Skate Mi sembra una cosa strana E tra l'altro Adotmi non ha detto niente Però abbiamo solamente Tre giorni per prenderlo Quindi questa cosa È molto molto strana Cioè perché Adotmi Non ha detto niente Perché abbiamo solo tre giorni Per prenderlo Non ho capito Adotmi sta aggiungendo Proprio cose A casissimo E questa non è L'unica cosa Che Adotmi ha aggiunto Non so dove Fino ha registrato prima Ma raga Sono su questo account Perché vi devo mostrare Un'altra cosa Che ha aggiunto Adotmi Adesso devo far uscire Quest'uovo Che si chiama Starter Egg Ma in teoria Da quanto ho capito Non so se ho capito male Ma Adotmi ha anche Introdotto Un nuovo pet segreto Cioè Adotmi sta rilasciando Un sacco di cose segrete Che nessuno sa Che non dice proprio E in questo caso Ha rilasciato Questo nuovo pet Che si chiama Practice Dog Il Practice Dog E un pet Che viene dato Alle persone Che non hanno pet Cioè quindi Se voi non avete pet Nell'inventario Loro vi danno Un Practice Dog Il che è veramente Veramente strano Cioè Adotmi Non ha detto niente Di questa roba Veramente nulla Vi giuro che è una cosa Che c'è veramente Adesso vi faccio Fare le missioni all'uovo Perché purtroppo Devo schiudere l'uovo E dare via il pet Ah da quanto ho capito Ok dovrebbe essere L'ultima missione Finalmente di quest'uovo Adesso vediamo un po' Se è l'ultima missione O meno Ma se non ho capito male Il Practice Dog Che è questo nuovo pet segreto Ve lo danno esclusivamente Se avete Nessun pet All'interno dell'inventario Quindi se non avete pet Sì si è schiuso Era l'ultima E sicuramente ho trovato Un cane e un gatto Ho trovato un cane E è il mio preferito Però purtroppo Questo cane Deve andare via Andiamo un attimo al centro Spero che non devo Prendere la licenza Perché non c'ho voglia Quindi spero che posso Regalare questo pet A Q Ti diamo questo cane Qua alla ragazza E adesso noi abbiamo Il Practice Dog Perché praticamente Adesso su Adotmi Non potete Non avere più pet Perché se non avete pet Vi danno questo pet qua Che è un cane Questo cane Praticamente è già Full grown Quindi come potete vedere Adesso vi mostro qua Andate a scuola Potete fare le missioni Tranquillamente Vi danno i soldi Facendo le missioni Anzi ecco Meglio ancora Fame Quindi vi faccio vedere Come funziona Cioè adesso Guardate qua i soldini Qua in alto a destra Io Lo metto qua a mangiare E voi guardate i soldini Sono 113 Finita la missione Sono 122 Però come potete vedere Il cane non ha Cioè Adesso a scuola è in testa Ma il cane non ha Niente Cioè non è né full grown Non è veramente niente E letteralmente un cane Che sembra quasi un robot Cioè un cane si vede Tipo un prototipo di cane E nulla insomma È semplicemente un cane Che fa le missioni In modo che voi potete avere i soldi Eccetera eccetera Ecco qua Non si può scambiare Vedete non puoi scambiare l'articolo Quindi vedi Lei lo vuole Magari vuole questo cane qua Ma purtroppo non si può scambiare Perché è un cane Che vi serve solamente A far guadagnare soldi In modo da comprare uova In modo che Anche se avete Zero pet Nell'inventario Potete comunque fare soldi Potete comunque avere Un qualcosa Per fare dei soldi Comprare le uova E andare avanti nel gioco Direi di concludere qua questo video Fatemi sapere sotto nei commenti Se sapevate Dello Shadow Dragon Skate Dei nuovi codici Fatemelo sapere sotto nei commenti Se sapevate anche Di questo nuovo cane Che è veramente super segreto Boh raga Non so cosa sta facendo ad Ottimi Sta facendo un sacco di robe Super segrete E non ci dice nulla In ogni modo Spero che questo video Vi sia stato utile Come al solito Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Cliccando sull'icocina Qui in basso Cliccare sulla miniatura Per guardare un altro video E noi ci vediamo domani Ciao